Mario Calabresi ha il libro possibile per raccontare, rievocare e indagare un rapimento degli anni 70 in un periodo molto particolare della storia dell'Italia, come ha raccontato sul palco di Polignano a Mare del lungomare Cristoforo Colombo. Io ho raccontato una storia, che è la storia di una ragazza che cerca di sapere perché suo padre è stato rapito ed è morto. Un padre che non ha mai visto. Questa ragazza mi ha chiesto aiuto e così abbiamo cominciato un viaggio lungo nella memoria, nella Milano degli anni 70, negli archivi, per ricostruire questa storia e per capire perché un ragazzo di 25 anni, di una ricca famiglia milanese, era finito nelle periferie, perché aveva questa necessità di aiutare gli altri e dove però era finito anche invischiato in una storia di terrorismo che gli sarà fatale. C'è un legame che sembra quasi diretto con un altro rapimento importante come quello di Patrick Zaki, in qualche modo due periodi diversi che però si ricollegano. Ma diciamo una cosa, questa storia ci fa pensare molto agli anni 70 e non è questo un sequestro di Stato, e noi abbiamo delle storie, ahimè oggi, di persone che sono state rapite e sono state uccise purtroppo, abbiamo storie di persone che sono in carcere ingiustamente come Patrick Zaki e sono storie però che ci parlano del presente e che andrebbero affrontate oggi e affrontate subito. La storia la sente un po' sua quella che ha raccontato nel libro? La storia di questa ragazza mi ha toccato particolarmente perché è vicina naturalmente alla storia di mio padre, alla ricerca che io ho fatto sulle origini di mio padre, ma a me ha colpito soprattutto perché io ho un fratello che come Marta, la ragazza che mi ha chiesto di scoprire chi fosse suo padre, io ho un fratello che è nato dopo la morte di mio padre. Sia Marta che mio fratello sono nati a dicembre, prima di Natale, e tutte e due hanno avuto per tutta la vita una ferita, quella di non essere mai stati tenuti in braccio dalla persona che era il loro padre. Primo impatto con questo festival? L'impatto con questo festival è meraviglioso perché la cosa più bella oggi è tornare in presenza, incontrare le persone, parlare e respirare, questa è una cosa che ci è mancata tantissimo.